Emili Ratajkowski Ciricasta Emili Ratajkowski Ciricasta, non può resistere al fascino italiano Emili Ratajkowski ama l'Italia e il suo viaggio di quest'estate ne è stato una prova. Da nord a sud, la top model ha assaporato tutto il gusto della bella vita italiana, tra spiagge, ristoranti e città. Ora, a distanza di pochi mesi, è tornata in Italia e precisamente a Milano in occasione della Fashion Week, per sfilare per il brand Bottega Veneta. Oltre all'amore per i posti incantevoli che caratterizzano il bel paese, Lara Tajkowski è una grande appassionata della cucina italiana e una delle sue ultime foto pubblicate su Instagram ne è una prova. La top model ha condiviso il momento in cui mangiava un'enorme pizza al prosciutto, tenendo in mano un calice di vino rosso. Un inno all'enogastronomia italiana, apprezzato da quasi 600.000 persone su Instagram che hanno messo like alla foto e da circa 3.000 commenti da parte dei fan. Emili Ratajkowski e l'Italia, una lunga storia d'amore. Come tutte le storie d'amore, quella della Ratajkowski con l'Italia non poteva aspettare a lungo prima di un ricongiungimento. Così a distanza di pochi mesi dal suo meraviglioso viaggio attraverso lo stivale, la top model è tornata sul suolo italiano per sfilare in tutto il suo splendore per Bottega Veneta, insieme alla collega Bella Adid. Durante la sua permanenza a Milano, la modella ne ha approfittato per godersi i sapori mediterranei e così su Instagram ha pubblicato una foto mentre mangiava una pizza al prosciutto, accompagnata da un calice di vino rosso. La caption recitava mentre sono in Italia, sia per ricordare i momenti trascorsi durante l'estate, sia per celebrare ancora una volta il suo legame con il bel paese. Nella foto la modella indossava un abito decisamente sensuale, bianco con decori di pizzo e due spalline sottili incrociate sul décolleté. Sono state più di 3000 le persone che hanno commentato la foto sottolineando sia la sua bellezza, sia la bontà di quella pizza enorme. Tra passerelle, lotte femministe e viaggi. La vita di Emili Ratajkowski è piuttosto intensa, non solo perché è una delle top model più famose del momento, ma perché lei stessa è impegnata in prima persona su diversi campi. Pochi giorni fa l'abbiamo vista ribadire la sua posizione contro la mercificazione del corpo femminile, andando anche contro il sistema della moda. Al tempo stesso sui social si mostra come testimonia le indossatrice di noti brand internazionali e intanto, si dedica anche ai viaggi, in particolare alla scoperta della sua amata Europa. Lara Tajkowski è una donna piena di energie, interessi e valori che non ha paura di condividere con il mondo. La sua posizione a favore dei diritti delle donne le ha dato un posto di rilievo in ambito sociale e anche a livello internazionale i fan sembrano davvero apprezzare questa sua molteplicità. A soli 26 anni, la top model si può definire un'attivista e una donna di successo, distinguendosi in questo caso da molte altre colleghe che si occupano solo di moda. Per tutti i fan, non resta che attendere quali saranno i prossimi passi e i traguardi che la giovane e bellissima modella raggiungerà. Grazie a tutti. Grazie a tutti.